Ogni giorno la LUIS si tiene un virtuoso confronto tra docenti e studenti preparati e desiderosi di apprendere e di mettersi in gioco. Ciò contribuisce a creare un forte senso di appartenenza all'università e in effetti frequentando la LUIS si ha la sensazione di appartenere a una grande famiglia. Studio il diritto privato comparato, in particolare il commerciale comparato. Si tratta di una materia in costante evoluzione anche in virtù della forte internazionalizzazione dei mercati. Tra i temi di maggiore attualità più affascinanti vi è quello dell'impatto delle innovazioni tecnologiche sulla disciplina dei mercati e dell'attività di impresa. Si tratta di un terreno ancora ampiamente inesplorato ma molto affascinante. Tra le mie passioni vi è sicuramente quella di viaggiare. Altra grande passione è per il cinema. Consiglio a tutti gli studenti di giurisprudenza di guardare vecchi classici, film giudiziari quali testimoni d'accusa o la parola ai giurati. Naturalmente un'altra grande passione è quella per la ricerca che ho scoperto quando ho scritto la mia test di laurea.